Prima il Green Pass obbligatorio per la fiera di San Nicola, ora anche per la notte delle candele. Il sindaco di Pesaro Matteoricci ha annunciato questa mattina un'altra novità. Il 10 agosto si terrà la tradizionale festa a candele sotto le stelle, scrive il primo cittadino su Facebook. Domani in conferenza presenteremo il programma. Nonostante sia un evento diffuso, crediamo giusto introdurre il Green Pass per parteciparvi, visto che dal 6 agosto verrà introdotto in tutta Italia. Siamo d'accordo già con il prefetto, i controlli verranno effettuati a campione su tutto il lungomare. Poi Ricci fa sapere che per coloro che non sono ancora riusciti a prenotare il vaccino, il Comune allestirà a sue spese alcuni punti per fare il tampone gratuito nei giorni 9, 10, 13 e 14 agosto. Intanto tra i cittadini c'è già chi protesta. Assolutamente non favorevole al Green Pass, alla notte delle candele favorevole, però al Green Pass no, mi dispiace ma non lo trovo giusto. Noi che non abbiamo fatto il vaccino siamo discriminati, siamo come dei delinquenti, nel senso che ognuno... Io penso una cosa, che la Costituzione dice che no, la libertà di pensiero, di parole, questo è come un ricatto, se hai il Green Pass, vai in certi locali, in certi ambienti, ok, va bene, e questo l'ha detto lui o l'ha detto chi per lui. Però voglio dire, la Costituzione dice la libertà, la libertà io scelgo come vivere e come morire. È assolutamente incostituzionale e viola tutti i diritti riconosciuti dalla Costituzione e anche dai regolamenti europei, quindi è una follia. Io sono contrario e sarei anche quasi curioso di farmi fermare, che non ho il Green Pass, io non ho preso il Covid, non ho fatto il vaccino, per vedere cosa mi farebbero dopo, se mi deportassero a casa, detto in maniera ironica. Però in generale io mi tengo contrario, non vedo il senso di fare, visto che è un'attività svolta all'aperto. Assolutamente favorevole, per me si potrebbe uscire di casa solo con il Green Pass, perciò non ci sono problemi, anzi, assolutamente sì, è una cosa sacrosanta per il bene di tutti quanti. Tanto sappiamo che ci sono assembramenti, la gente, i ragazzi stanno tutti insieme, ed è giusto che stiano insieme, però che siano vaccinati. Beh, è abbastanza contrario, comunque è stata appena introdotta la norma, sarebbe stato forse più opportuno consentire l'ingresso anche a chi non ha ancora questo documento. Contrario nel senso che comunque, anche per quanto riguarda le restrizioni, per me sono abbastanza eccessive. Io sinceramente sono contraria al Green Pass in generale, perché mi dà l'idea che tolga molto la libertà di scelta, però allo stesso tempo se fanno come ha fatto agli europei, che scendono a migliaia e migliaia di persone, secondo me è l'unica scelta, quindi se non sei vaccinato fai un tampone.